Al centro del secondo appuntamento dell'evento giornate cardiovascolari dell'Alterpinia si è discusso anche delle soluzioni da mettere in campo per l'ex ospedale di Bisaccia, del centro risveglio e della residenza sanitaria assistenziale. Gli esperti si sono ritrovati nella sala convegni del castello ducale del comune Alterpino. L'appuntamento qui a Bisaccia serve anche per ricordare che questo territorio non può essere abbandonato e che bisogna investire anche in questa parte del territorio. Per quanto riguarda la rete emergenziale dell'infarto e dell'ictus, l'ospedale di Ariano resta un modello in ambito regionale. Noi stiamo entrando nell'ambito della rete dell'infarto miocardico acuto, come lei sa, noi facciamo parte di questa rete nell'ambito del discorso AB e SPOC. Il nostro reparto di cardiologia dell'ospedale di Ariano è il centro SPOC, anche se la regione l'ha individuato anche come AB, quindi con eventuali potenzialità ulteriori. Noi ad Ariano abbiamo da molti anni in un certo senso anticipato questa rete attraverso il sistema della telecardiologia e del trattamento in loco della sindrome coronarica acuta. E questo modello adesso si esporta un po' in tutta la regione, credo che sia un modello virtuoso che effettivamente vuole ridurre quelli che sono i rischi notevoli per i pazienti infartuati che si verificano soprattutto nei primi momenti dall'insorgenza dei sintomi.